Ciao, buonasera, faccio vedere una cosa, come Dio lavora, Dio, allora questo è un pezzo di carta, pulito, io lo piego, lo piego così, ok? Lo piego così, e faccio una piccola casa, dopo della casa lo piego a metà, metà a metà, e faccio mezza casa, se non prendo la casa, dopo di questo, dico che Dio mi aiuta, ma tu, che tu per me sei sempre numero uno, dopo numero uno, rompo a metà, fine e bacio, però adesso, be careful, appena stai rompendo, se rompono i pezzi, avvicini, viste, 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 poi dopo di questo, e metto tutto in terra, un lato è rotto, ora piano piano, sto scrivendo quello che viene scritto, con una mità o una, ora è la mità, viste, ora è rotto qua, questa è la mità, è la numero uno, ί huh? mi proponais, se hai datto la mità, non c'è la리 uma, quindi non c'è la na, non c'è la medica, è la mità, dachte, e This L'finito, viste, viene scritto, è, è l'inferno, però se sapetriche il tuo pezzo man, senza la ombra, ti esce numero uno, Gesù Cristo. You got it? I hope you learn something. Buon appetito.